Sindaco, un'altra emergenza occupazionale per il territorio di Patrica? Purtroppo è un'altra regola che si abbatte sul nostro territorio. Sono coinvolte attualmente 25 famiglie. La ditta della Cogeme impiega 112 operai. La loro attività si rivolge verso il mercato delle automobili, quindi la Bosch, la Magneti Marelli, e spostano soprattutto in Brasile, Francia ed India. E comunque, a differenza di tante altre società, che hanno comunque ancora delle commesse a cui adempiere. E quindi questo ci fa ancora più rabbia, perché a differenza di altri casi che magari non hanno lavoro, in questo caso invece ce n'è, e purtroppo i lavoratori dipendenti vengono invece estromessi. L'intento è quello comunque di richiedere dei contratti di solidarietà, quindi con la diminuzione dell'orario di lavoro, però che permetta ai lavoratori dipendenti di poter lavorare tutti. Questo è l'intento. Noi saremo vicini come amministrazione ai lavoratori dipendenti e cercheremo di fare da cassa di risonanza affinché questo problema venga risolto, quindi anche presso politici locali, nazionali, regionali e anche altri enti. Grazie.